Noi siamo Silvia e Mario, facciamo parte della gelateria Tondini, è una gelateria che è stata fondata nel 2019, quindi diciamo un'azienda giovane. Utilizziamo per lo più materiali naturali in loco, nel senso che il latte ce lo porta un'azienda agricola di Santa Maria la Palma, quindi il latte crudo che noi pastorizziamo sul posto e con quella pastorizzata produciamo un gelato totalmente artigianale. Utilizziamo frutta di stagione, quindi frutta locale e di stagione e soprattutto la nostra gelateria inizia a essere conosciuta nel nord Sardegna per essere una gelateria total free. gluten free, quindi con i senza glutine per tutti quanti, il gelato senza glutine e anche diciamo le granelle che noi utilizziamo sono totalmente senza glutine, quindi da noi un intollerante al glutine si trova benissimo. Stiamo ottenendo dei buoni risultati, un riscontro molto positivo. Niente, volevo dire che quindi è una gelateria gluten free anche per gli intolleranti al lattosio e lavoriamo le materie prime del territorio. Perfetto, e oggi siete qui con la speranza di ricevere questo premio. Esatto, benissimo, io vi ringrazio, vi auguro buona continuazione. Grazie.